...nove e settante di esecuzione, nove e sessanta. E adesso dalla Caneva andiamo a vedere la rumena Piscu Pescu che ha partecipato recentemente ai campionati europei di Breno. Ottenendo tra l'altro il quindicesimo posto con 102-150 nell'allorado. Infatti vedremo degli esercizi molto particolari ed interessanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.